Vi servono crediti? FIFA 15 Coinsmart, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione, sono veloci, affidabili ed economici. Bentornati amici su Giovia Cadispo e bentornati con un nuovo episodio del Road to Glory. Qui vedrete una nuova squadra, questa squadra l'ho fatta con circa 38k ed è questo, abbiamo Immobile Ramos, Jovinko, Escharawi, Aubameyang, De Rossi, Evra, Barzali, Chiellini che non state vedendo, Pijek e Sirio in porta. Ho visto anche delle vostre squadre, ho letto i vostri commenti, ho visto che mi avete mandato anche le squadre tramite Facebook, sono stato contentissimo. Ditemi cosa ne pensate di questa nuova squadra e se volete che debba cambiarla, anche se sinceramente per ora non ci sto trovando benino diciamo. Comunque ditemi se devo cambiare questa squadra, se devo comprare un top player tipo fare una squadra con un top player, altri giocatori bagati, cioè ditemi voi come potrei impostare la squadra. Comunque la prima partita, il primo gol è di Eme Nique con una cavolata di Sirigu e di Barzali messi insieme. Giamutino allarga per Schneider, Schneider il tiro di mancino. Quaresma arriva sul tiro, sul rispinta e la insfila. Per il 2-0, va bene. De Rossi, dicevo questa palla, l'aggancio, la tira e segna così De Rossi, De Rossi veramente segna davvero sempre. Questa è, in questa partita ci sono andate solamente 3 partite, infatti qua mi dava sconfitto, vabbè. 3 partite perché la prima partita l'avevo registrata, poi si è salvata la corrente e me l'ha tolta, però l'ho vinta comunque. Prossima partita, abbiamo un'altra Serie A, un'altra, una Serie A, abbiamo Isharavi, Palacio, Iturbe, Hernanes e altri. Però il primo gol è il nostro, attraverso Ramos che la larga bassa per Immobile che con il mancino non la infila, la squale di Buffon se non erro. Qua Ramos corre come se avesse un razzo nel culo, Ramos si accentra, si dribbla, si smarca il mancino, la infila e vai. Jovinko, il cross, in area di rigore, sul corner per la testa di De Rossi. Due partite, due gol De Rossi, cioè, non so neanche come descrivere De Rossi perché comunque segna sempre. Non lo so, se voi l'avete provato, ditemi com'è, com'è sembrato De Rossi qui, a me è sembrato un giocatore abbastanza buono. Prossima partita, una bella, e questa è una bella ibrida. Abbiamo avuto Umbri alla casetta, Valbuena, Alessandrini, Tosic in Villa, Digne, Cazares, Juan, Iesus, Mario Fernandez e Buffon in porta. Il primo gol con questo tiro di Chiellino non avviene perché ci sarà un calcio di rigore e alla battuta sapete che andrà De Rossi perché comunque lui aveva il miglior rigore e faccio battere De Rossi che segna in maniera tranquilla. Al quinto minuto qua la casetta parte in velocità e quando parte in velocità so cazzi o gli fate farlo come in questa occasione oppure lo fate tirare. Quindi è successo, mi fa algo. Andrà Doumbia, sul calcio di rigore contro Sirigu, sbaglio io il tiro e non riesco a pararlo. Bomeyang si lascia fregare da Alessandrini che segna il 2-1. Qua De Rossi veramente scatenato in questa partita, riesce a dribblare 2-3 giocatori per l'assist di Jovinko che tira e segna. Mamma mia, Jovinko ancora per la testa di El Sharawi, Jovinko assist e gol, De Rossi assist e gol, mamma mia, ma i micidiali. Ramos qui si libera dei Digni, Ramos corre, spingo 300 volte il quadrato per tirare e segna grandissimo. Jovinko una bella bicicletta, un assist per El Sharawi che con un tocco morbido le infila per il 4-2, finale al 90-minuto. 5-2, no, 5-2, 5-2 e dunque abbiamo vinto questa partita, abbiamo vinto anche il titolo e siamo ad un passo dalla seconda divisione e dalla prima divisione di conseguenza. Ora sicuramente le cose si fanno veramente più difficili di quanto lo fossero finora e dunque ho bisogno del vostro sorsegno. lasciando un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, qui è Jovinko, vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo in un prossimo video e naturalmente commentate. Ciao ragazzi e alla prossima!